Sa bene Erika a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Anton99 e oggi vi voglio parlare del Palermo, ma non del Palermo attuale, sappiamo bene le trattative di mercato come si stanno svolgendo al momento. In questo video parleremo del Palermo più forte che ho visto, secondo me, ovviamente è una mia opinione. Prima di continuare ovviamente vi chiedo come sempre di supportarmi, iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche, lasciando un like o commentare a fine video che cosa ne pensate. In descrizione troverete tutti i miei social, se vi volete fare un po' i fatti miei. E poi un'ultima cosa che vi avevo annunciato tra l'altro qualche giorno fa nella sezione community, ovvero che andavo in vacanza per un po', quindi per qualche giorno mi prenderò una pausa da YouTube. Dunque ragazzi, adesso parliamo del Palermo secondo me più forte che ho visto. In realtà ho avuto l'imbarazzo della scelta, poi ricordando meglio tutte le partite, tutte le annate che ho visto, mi è rimasta impressa un'annata, che nonostante gli esoneri, le richiamate in panchina eccetera eccetera, per la squadra forte che avevamo siamo arrivati quinti in classifica e in Coppa UEFA. Stiamo parlando della stagione 2006-2007, quel Palermo era un Palermo stellare. Per me era un Palermo che nonostante non avesse grossissimi nomi, dimostra quanto dimostra che lo spogliatoio è unito. Quando lo spogliatoio è unito si vede anche da questo, dall'intesa tra i calciatori, poi certo se poi dobbiamo aggiungere qualche promessa all'interno di quel campionato e qualche giocatore un po' così preso da Zamparini all'epoca, però mi viene da pensare ad esempio un David Di Michele, un Eugenio Corini, un Alberto Fontana, un Edinson Cavani, un Giuseppe Biava. Stiamo parlando di calciatori alcuni giovanissimi, altri che invece hanno fatto diciamo la storia del Palermo fino ai giorni nostri. Poi c'è anche Zaccardo, Barzai, cioè non serve neanche parlare di quel campionato perché poi il Palermo ha dimostrato di essere una grandissima squadra. Di quella squadra non mi piaceva tantissimo Mark Bresciano, la statua era qualcosa di fenomenale. Tra le partite che mi ricordo, oltre al fatto che c'era Ciccio Brienza in quella squadra che per me era sottovalutatissimo, un calciatore del genere, so perché le squadre non ci hanno mai realmente puntato, parlo delle grandi squadre, non delle squadre medio-alte. Nonostante non ci fosse una grandissima progettualità, nel senso a livello di guida tecnica, di calciatori che comunque mantenevi continuamente, riuscivi con lo scouting a ottenere sempre dei calciatori funzionali. E quindi questa cosa ha sempre permesso al Palermo di mantenersi e di continuare a fare degli ottimi campionati per lungo tempo. In quella stagione tra l'altro mi sembra che il Palermo ha speso non so quanti soldi per Andrea Caracciolo, che per carità non era un giocatore scarsissimo, tant'è che lui ha fatto catervi di gol, quindi lo dimostrano i gol che ha fatto nel corso degli anni. Però a Palermo non si sono rispecchiate quelle aspettative che molti tifosi, tra cui anche il presidente che molto spesso ci metteva la sua, ci si aspettava qualcosa in più da lui, ecco lo chiamavano come il nuovo Lucatoni, poi in realtà sappiamo com'è andato a finire. Però in compenso in quella squadra abbiamo preso Amauri dal Chievo Verona, abbiamo fatto una stagione incredibile. Mi ricordo che alla prima di campionato avevamo la regina penalizzata di Walter Mazzarri, abbiamo vinto solamente 4-3 con la famosa rovesciata di Biava. Veramente una squadra fortissima, dominatori assoluti in quel campionato. E per dominatori assoluti intendo dire che era una sorpresa che non era più una sorpresa, nel senso si tendeva sempre a riconfermare una rosa forte. E di forte intendo dire che alcuni di questi, quando venivano ceduti, mi viene da pensare Grosso, Barone, che erano già diventati campioni del mondo nel periodo estivo, quella squadra tuttavia riusciva sempre ad ottenere il massimo dalle cessioni. Quindi tanti soldi e allo stesso tempo si riusciva a spendere su giocatori che riuscivano ad essere promettenti nel corso della stagione. Poi come non scordarsi il derby alla terza giornata Palermo-Catania. E allo stesso tempo affrontavamo un Catania che come il Palermo avevano in quel momento, se non sbaglio loro, la miglior difesa contro il miglior attacco. In quel caso ha vinto il miglior attacco anche se abbiamo preso tre gol, loro ne hanno preso cinque. Poi abbiamo perso le solite partite, il Palermo ha perso un sacco di partite stupide nella sua storia. Mi viene da pensare ad esempio l'Empoli che è stata una nostra bestienera per tantissimi anni. Ecco, ci sarebbe tanto da raccontare di quella squadra, ma veramente tanto. E quindi perché sto condividendo con voi questo mio pensiero, questa mia passione per questa squadra? Oltre al fatto di dirvi qual è la squadra più forte da quando vedo il Palermo. Beh, perché nonostante il fatto che ci siano stati sempre dei cambi in panchina, poi alla fine ci ha guidato Guidolin alla qualificazione alla Coppa UEFA, dimostra che se ci fosse un progetto molto più serio, e che mantenendo per gran parte degli anni la stessa ossatura, rinforzando ovviamente ogni reparto, secondo me questo Palermo può far paura a chiunque. È chiaro che stiamo parlando in ottica futura, ma tuttavia io cerco di vedere le cose positive. Perché se ci fossilizziamo sempre sulla negatività in questa città, non si andrà mai da nessuna parte. Quindi dobbiamo essere sempre uniti. Adesso mi goderò qualche giorno di vacanza, e ritornerò a fare video sicuramente dopo la partita di Coppa Italia, Parma-Palermo-Lennio-Tardini, vi ricordo. E nulla amici sportivi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi ho fatto riaffiorare dei bellissimi ricordi del passato, perché io ritengo che il passato alla volta è giusto ricordarlo, per le cose importanti che abbiamo fatto, poi è chiaro che ci sono anche le cose negative, che assolutamente non vanno scordate. Mi fermo qua, volevo solamente condividere con voi una delle stagioni più belle, più emozionanti del Palermo, da quando l'ho iniziato a seguire. Tra l'altro io in quel periodo avevo all'incirca 7-8 anni, ma mi ricordo gran parte di quel campionato, perché qualche volta ero allo stadio, qualche volta mi vedevo le partite da casa, e mi ricordo sempre questa grande passione mia, sempre con la sciarpetta sul divano a seguire il Palermo, o alle volte allo stadio, in tribuna, a seguire il Palermo per un Palermo-Lazio, per un Palermo-Inter, per un Palermo-Atalanta. Partite che alle volte, magari a noi palermitene, non ci dicevano nulla, ma quanto era bello il fatto che lo stadio era sempre, o quasi sempre, pieno. Solo a ripensarci adesso, trovo una grande emozione. Spero che anch'io vi ho fatto provare la stessa cosa in questo video, e nulla ragazzi, ci becchiamo, fra qualche settimana come vi dicevo, ciao e sempre Forza Palermo!